Salve ragazze benvenute e bentrovate siete qui nel mio canale io sono Zahira questo è il mio nuovo interattivo a più varianti come vedete ho due mazzi di carte tarocchi delle stagioni e tarocchi del romantic tarot e a fianco ho preso queste carte oracolari dopo vi spiego di che si tratta intanto andremo a capire che interattivo faremo oggi andremo a vedere chi ti pensa in segreto e se si farà avanti e insomma cosa vuole da voi andiamo ad analizzare chi vi pensa in segreto se si farà avanti e soprattutto poi che insomma vuole da voi ecco questa persona allora io adesso mischio le carte del messaggio magici delle fate voglio fare questa operazione davanti a voi per non evitare insomma per chiarezza no del della stesa quindi dopo aver mischiato prendo una carta a caso ecco qua e la metto qui in questa prima variante quindi questa la carta questa carta delle messe dei messaggi magici delle fate sarà la prima variante adesso mischio le risposte degli angeli e questa farà parte della seconda variante quindi voi in questo caso dovete scegliere qual è la vostra variante se volete scegliere la carta dei messaggi delle fate dei messaggi magici delle fate o se volete scegliere la carta degli angeli delle risposte degli angeli allora queste sono le mie due varianti quindi chi ti pensa in segreto si farà avanti e cosa vuole da voi poi faremo un approfondimento vedremo la descrizione insomma qui ho delle carte come mi sentirò così farò allora io intanto vi invito a fare questa scelta intanto io passo subito avanti perché mi voglio insomma fare un video abbastanza smart allora ragazze questa è la prima è la prima variante dopo alla fine del risultato di quello che verrà fuori con queste meravigliosi tarocchi delle stagioni andremo a vedere cosa così a livello proprio casuale cosa vi è venuto fuori da questa variante allora intanto vi voglio brevemente ricordare che sono interattivi collettivi generali quindi non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi quindi prendete sempre insomma ispiratevi per quello che vi riconoscete poi brevemente vi voglio dire che per chiunque vuole un interattivo personale e lo vuole con me nella descrizione del video ci sono i miei contatti quindi aprite la finestra alla spunta e usciranno tutti i miei contatti allora sto mischiando i tarocchi dell'indovino con queste carte con queste tarocchi faremo una piccola descrizione di chi ci pensa così che voi potete anche con questa piccola descrizione capire un attimino se fa questa è la vostra variante magari se riconoscete qualcuno perché insomma chi vi pensa potrebbe essere sia una persona che conoscete magari una persona che conoscete di vista magari anche uno sconosciuto non è detto intanto andremo a vedere in ogni caso la descrizione di questa persona che vi pensa quindi chi ti pensa chi pensa a coloro che hanno scelto la prima variante abbinata ai messaggi magici delle fate andiamo a vedere una piccola descrizione di questa persona qui abbiamo un sognatore o una sognatrice una persona molto dura comunque anche una persona qui abbiamo il fondo mazzo abbiamo il 5 di coppe ops oggi io stavo perdendo tutte le carte ecco il 5 di coppe di fondo mazzo qui abbiamo le stelle l'imperatore il cavaliere di bastoni capovolto abbiamo il re di denari scusate il re di coppe capovolto e poi abbiamo la carta appunto del fante di di bastoni allora andiamo a vedere che c'è qua qui parliamo intanto di una persona molto una persona colta una persona importante abile ma anche molto rigida perché l'imperatore ci dà questa energia quindi qua parliamo di una persona che comunque sempre pronto a nuove a nuove esperienze a nuovi amori a nuove prospettive insomma sempre propenso per le novità che comunque ha un una energia molto rigida molto anche orgogliosa un po imperiosa questa sua energia è una persona che spesso rinuncia spesso provoca delle discordie litigi e rottura di rapporti quindi ha un'energia con questo cavaliere di bastoni capovolto queste carte delle tarocchi dell'indovino sono leggermente diversi come significati dai tarocchi tradizionali e quindi insomma non vi meravigliate se ci sono anche delle carte che hanno dei significati un po diversi poi è anche una persona un po in preda ai vizi questo potrebbe avere il vizio del gioco vizio delle donne il vizio di di bere insomma e altri vizi e questo è una persona che comunque questi questi suoi modi di così di essere crea sempre dei cambiamenti nel lavoro nella casa nelle relazioni insomma è una persona che a causa dei suoi litigi del di quello che nel suo modo di essere di questi vizi di questa rigidità crea può creare spesso queste dinamiche comunque è anche una persona che quando vuole sa dare piacere sa essere un amico generoso e può anche essere affabile insomma un buon amico se o dare buone notizie se ben disposto verso qualcuno o qualcosa qui vedete in come fondo mazzo viene la carta di amore quindi questa è una persona sicuramente che per voi ha un amore perché qua viene proprio l'affetto la tenerezza e proprio la come dire la passione e l'innamoramento verso reciproco quindi questa è una persona un po rigida un po religiosa un po che crea discordia un po viziosa insomma una persona in preda in balia alle sue dipendenze una persona che però quando vuole sa credere nei sogni e quindi crede nell'amore può essere anche una persona che può dare anche delle buone notizie e per voi ha un debole quindi comunque si sente in qualche modo innamorato di voi questa era la descrizione adesso andiamo a vedere appunto il pensiero di questa persona quindi andiamo a vedere che abbiamo visto che chi vi pensa è questo diciamo soggetto questo personaggio no quindi insomma se vuoi in qualche modo vi sentite di riconoscere in qualche modo questa persona allora andate avanti in questa variante se proprio per nulla potete scegliere l'altra variante allora adesso con ovviamente il tarocchio andiamo a vedere il pensiero di questa persona quindi vi pensa in segreto va bene ma cosa pensa di voi in realtà qual è questo pensiero segreto che ha verso di voi quindi andiamo a vedere a verificare il pensiero segreto di questa persona prenderemo le nostre solite carte questa volta le voglio prendere così dal centro abbiamo qua un 8 di coppe abbiamo un 4 di spade 5 di denari il fante di spade e il 6 di coppe a fondo mazzo abbiamo 5 di spade allora qual è il pensiero che questa persona di cui noi stiamo chiedendo ha di voi allora è chiaro che questa persona ha un pensiero anche un po doloroso per certi versi perché vedete qua ci sono sono successe sicuramente delle situazioni qua mi viene da pensare che c'è stata una mancanza proprio di voglia di avere una frequentazione una relazione vedete la carta del 5 di denari ci parla di stanchezza di solitudine di abbandono ecco come quando si abbandona una situazione e mi viene tanto da pensare che siete state voi ad abbandonare questa situazione o comunque la persona potrebbe anche essere la persona che questo momento vi pensa perché no qui abbiamo proprio un allontanamento che risale ha un po di tempo quindi insomma anche abbastanza tempo potrebbe essere questa persona vi pensa vi sorveglia mentre vi pensa vi sorveglia vuole sempre sapere voi che fate domandate chi vedete che combinate quindi qua abbiamo proprio una persona molto a quasi ossessionata da quello che voi fate qui ci sono stati dei conflitti molto 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 forti perché 5 di spade ci parla proprio di questo ci parla come se si è proprio stati feriti dentro una ferita nell'anima nel cuore nei sentimenti quindi qua c'è stata veramente tanta po anche cattiveria nel fare alcune cose quindi questa persona ovviamente da queste carte mi viene da pensare che non si è comportata abbastanza bene con voi comunque vi ha lasciato un po si è distaccato un po da voi vi ha lasciato al freddo come si suol dire vi ha avvoltato le spalle a livello sentimentale mo che sia che avete lasciato lui voi voi a lui o lui a voi ma lui anche se l'avete lasciato voi però questa persona vi ha lasciato prima sentimentalmente cioè forse voi volevate qualcosa in più e lui non era in grado di darvelo in ogni caso al momento vi pensa con nostalgia perché vedete qui abbiamo la carta del sé di coppe quindi come questa donna guarda questi due innamorati così lui guarda guarda ripensa al passato di quando voi stavate bene di quando vi abbracciavate facevate l'amore non lo so uscivate insomma questa persona è molto in questo momento molto vulnerabile molto debole attaccata in maniera morbosa al passato ai ricordi e non smette è ossessionata praticamente da voi quindi chi vi pensa in segreto vi pensa quel tipo tipologia di persona che vi ho detto prima e vi pensa in questo modo quasi ossessivo quindi adesso andiamo a vedere cosa vuole da voi quindi andiamo proprio a vedere le azioni di questa persona che cosa vuole da voi questa persona di di cui di coloro che hanno scelto la prima variante cosa vuole cosa vuole da loro quindi vediamo cosa vuole da da voi questa persona che vuoi in qualche modo di pensa che a voi vi pensa quindi andiamo a vedere un po che cosa vuole da voi e quindi andremo a vedere anche le possibili azioni allora prendiamo le nostre carte qui abbiamo un sette di coppe la papessa il carro l'otto di bastoni nove di denari fondo mazzo abbiamo la carta del matto quindi cosa vuole da voi questa persona intanto questa persona qua ci ribadisce ancora il desiderio il pensiero quindi questo vi pensa proprio tanto no proprio chi ti pensa in segreto ma questo non fa altro che pensarvi continuamente vedete vi vi pensa anche come una donna importante di spessore una donna matura una donna profonda qui abbiamo la sacerdotessa la dea quindi qua veramente per lui siete stata una donna molto importante vorrebbe tornare da voi perché qua abbiamo un carro vedete con questo simbolo del girasole che porta alla luce vedete tutta l'energia del sole quindi praticamente questo vuole un risveglio vuole a un nuovo entusiasmo e vorrebbe in qualche modo comunicare con voi vedete la carta delle comunicazioni e poi vorrebbe dopo aver fatto tutto ciò raccogliere un buon raccolto come fa questa persona che si raccoglie tutto l'uva quindi vorrebbe una sicurezza un raccolto d'uva dopo un duro lavoro un appagamento vorrebbe guadagnare con voi qualcosa però io vi dico questa persona fate attenzione perché qua c'è l'energia del matto quindi questa persona potrebbe anche avere voglia di avventura non è detto ma potrebbe anche avere voglia di avventura allora adesso io con questi mini oracoli di Ellen voglio andare a approfondire soprattutto l'ultima domanda cosa vuole da voi quindi questa persona che vi pensa in segreto intanto abbiamo visto chi è questa persona un po' rigida insomma dai tratti caratteriali un po' duri religiosa che può creare delle dinamiche insomma non gran che belle abbiamo visto che il pensiero che ha è un pensiero soprattutto di tutto quello che ha combinato e ha combinato tanto ma anche di amore di nostalgia in qualche modo qui è caduta la carta la prendiamo vedete viene proprio la carta delle comunicazioni vedete che è molto attinente a questa dell'otto di bastoni quindi qua ci saranno le comunicazioni desiderate quindi se voi pensate che questa persona è una persona del vostro passato e quindi pensate appunto che dalla descrizione possa essere lui quindi sappiate che questa persona presto si metterà in comunicazione con voi allora andiamo ad approfondire vediamo la papessa viene qua vedete voi avete fatto uno sforzo eccessivo per qualcuno che non vi ha apprezzato come meritavate di essere apprezzate vedete vediamo il carro beh col carro qui c'è stata una mancanza di concentrazione quindi la situazione è stata chiusa probabilmente qua mi viene da pensare da voi perché dopo che non eravate apprezzate vi sarete stufati vedete nella comunicazione questa persona aspira a questo ha una convivenza ad approcciarsi nuovamente a un contratto ecco la carta del nome di denaro viene fuori la carta innamorata quindi questa persona viene fuori che è innamorata di voi per questo vi pensa con questa ossessione e guardate ragazze a fondo mazzo che cosa abbiamo abbiamo la carta della riconciliazione quindi qua ci sarà sicuramente un riavvicinamento potrebbe anche esserci solo un recuperare responsabilmente un contatto un'amicizia romantica un qualcosa insomma poi sapete voi allora io vedete perché faccio sempre tutto davanti a voi perché poi mi dite eh ma qua viene sempre il ritorno viene sempre il ritorno ma voi vedete che le carte che escono sono queste allora quindi ragazze andando a ricapitolare chi ti pensa in segreto quel personaggio poco raccomandabile per carattere e durezza quindi che cosa pensa qual è il suo pensiero pensiero di rimpianto di rimpianto e soprattutto non riesce a dimenticarvi quindi ha un'ossessione vi pensa con ossessione che cosa vuole fare vuole assolutamente ricongiungere nuovamente questa vicenda e lo vuole con tutto se stesso e alle carte all'approfondimento delle carte ci viene fuori che vuole comunicare con voi che vuole riprendere nuovamente vedete qua c'è il contatto qua ci sono i confetti ma insomma contestualizziamo questa carta però intanto viene fuori che è innamorata e alla fine fondo mazzo abbiamo la riconciliazione quindi questo era l'interattivo ok adesso andiamo però anche a vedere la carta che voi avete scelto abbinata a questo mazzo di tarocchi vi ricordate quindi le carte dei messaggi magici delle fate cosa viene fuori? viene fuori la carta hai potere vediamo cosa dice questa carta usa le tue capacità per superare questo momento puoi farcela quindi è una carta molto positiva quindi qua ci dice questa carta che qualsiasi cosa voi avete in mente avete in questo momento un potere molto grande e quindi riuscirete sicuramente a superare qualsiasi difficoltà allora ragazze se vi è piaciuto l'interattivo la variante mettetemi un like se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale anzi vi ricordo di attivare anche la campanella così non vi sfuggeranno le mie novità va bene? io saluto chi ha scelto la prima variante grazie di essere stati con me e alla prossima eccomi qua ragazze allora abbiamo salutato la prima variante ecco qua che do il benvenuto alla seconda variante quindi Romantic Tarot abbinati alle risposte degli angeli che metteremo intanto qui ok? perché adesso con le carte gli oracoli cioè non gli oracoli con i tarocchi dell'indovino andremo a vedere un po' la descrizione di questa persona che ti pensa in segreto quindi chi ti pensa in segreto faremo una piccola descrizione di questa persona che potrebbe essere una persona conosciuta una persona nuova non lo so poi andremo a vedere mano a mano che escono le carte adesso non possiamo ancora saperlo quindi chi ti pensa in segreto faremo con queste carte la descrizione quindi chi è questa persona che vi pensa in segreto per coloro che hanno scelto la seconda variante allora qui abbiamo un 4 abbiamo un 4 di coppe scusatemi qui ci sono i semi sono diversi vedete c'è cuore quindi devo un attimino fare l'associazione abbiamo un 2 abbiamo un 2 di denari capovolto abbiamo un 4 di denari capovolto poi abbiamo la carta dell'asso di bastoni quindi 1 2 3 4 e 5 l'ultima e abbiamo un 7 di denari capovolto a fondo mazzo abbiamo la carta del pianto e che ve lo dico a fare ragazzi e che ve lo dico a fare qua c'è stata veramente tanta sofferenza allora una cosa è certa questa persona che vi pensa il segreto chi è beh intanto è una persona che vi ha creato davvero tanta sofferenza tanto dolore tante lacrime guardate voi stessa questa carta vedete questa donna come si dispera no? tanta tanta sofferenza il pianto proprio viene il pianto quindi che altro è questa persona questa è una persona vedete che crea sempre contrasti ostacoli impedimenti se qua c'è proprio un contrasto fra voi e questa persona è una persona che in questo momento sta subendo anche o ha subito una rovina finanziaria magari questo non lo so ha perduto una causa è successo un qualcosa insomma sta un po' in decadenza vedete con questa carta quindi sta oppure potrebbe anche significare questa carta che sta che sta un po' male insomma che non se la passa bene perché perché vedete qua i suoi desideri e la sua volontà le sue intenzioni sono in questo momento in via di progetto quindi lui vuole in qualche modo avere una progettualità e che tipo di progettualità vuole avere questa vuole avere sicuramente cercare in qualche modo di come posso dire di creare delle situazioni anche a livello messaggistico con delle persone perché lui si annoia e quindi ogni tanto deve in qualche modo distrarsi alle sue crisi momentanee facendo cosa? facendo queste lettere questi messaggi questa messaggistica magari questo niente di più semplice che è una persona che si mette sulle chat e chatta chatta fa le conoscenze poi magari che ne so gli fa credere anche qualcosa che progetta qualcosa per poi portare queste persone queste donne uomini a secondo di chi è alla sofferenza alle brutte notizie ai contrasti alle crisi insomma questo è una persona non vorrei dire parole brutte non mi piace dirlo però è una persona che ha un'energia scura ecco lui no o lei non ha è una tipologia di persona che crea un sacco di passicci per il suo modo di essere per questo suo carattere un po' così che crea contrasti no per questo suo anche essere un po' che si piange addosso un po' diciamo auto si autocommisera molto insomma comunque questa persona è anche una persona che non sta granché bene quindi qua chi è questa persona è una persona che crea un sacco di situazioni non belle che poi gli si ritoccono ritorciano pure contro perché tutti questi pasticci che fa poi alla fine lo fanno stare in rovina perdita questo potrebbe indicare la cosa finanziaria ma anche potrebbe indicare anche una perdita nei sentimenti quindi questo è insomma bene o male la descrizione di questa persona adesso vediamo questa persona che ti pensa che tipo di pensiero ha nei vostri riguardi di voi che avete scelto la seconda variante abbinata a questi meravigliosi tarocchi romantici e alla carta della delle risposte degli angeli quindi vediamo chi è scusatemi cosa pensa di voi in realtà proprio cosa pensa andando nel dettaglio quindi vi pensa in segreto che cosa pensa questo andiamo a vedere allora qui viene la carta queste saranno rigirate infatti qui viene la carta delfante di denari poi abbiamo qua un tre di coppe abbiamo il sole abbiamo il tre di spade la carta del carro a fondo mazzo c'è il mondo quindi che cosa qual è il pensiero che ha verso di voi sicuramente questa persona adesso è stata come dicevo vedete questo è uno che fa delle cose così brutte agli altri che poi gli ricadono addosso anche a lui perché poi magari questo lo fa per carattere non è che è il diavolo no per modo di dire quindi vedete qua con il tre di spade il pensiero che a lui ha è al pensiero di avere in qualche modo con sempre con questo dolore con queste bugie con queste perdite di avere proprio fatto sì che finisse una situazione quindi qua forse probabilmente in questa variante parliamo di una persona del passato quindi qua abbiamo una sensazione di una persona che ha creato dei insomma forse anche dei tradimenti degli inganni qualcosa dove poi si è chiusa la relazione con quest'altro tre di coppe qui per voi lui probabilmente aveva inizialmente un amore fisico non era proprio preso a livello sentimentale probabilmente voleva con voi un'opportunità e una sfida d'amore con il questa carta del fante di denari magari così vi dava poco però adesso è come se il suo pensiero fosse migliorato quindi intanto abbiamo qui col mondo una sensazione di apertura come se finalmente sia questa carta ci parla di una verità svelata e anche la carta del sole ci parla l'ora della verità l'amore chiaro quindi è come se questa persona attraverso questi suoi errori forti al dolore che ha provocato e che ha avuto a sua volta ha iniziato avere chiaro dentro di sé che magari con voi poteva avere una condivisione diversa insomma poteva avere un risultato diverso con la carta del carro che ci parla appunto di realizzazione di sogni è come se lui avesse constatato che non è stata una buona idea cambiare strada come se questa persona magari non lo so mettiamo che vi ha lasciato si è allontanato adesso è come se ci fosse un pentimento come dire ho sbagliato a prendere quella decisione a cambiare strada perché adesso è chiaro in lui il fatto che voi probabilmente potevate essere molto di più di quello che lui credeva adesso andiamo a vedere quindi questo è il pensiero quindi allora si farà avanti quindi ci sarà questa azione si farà avanti questa persona quindi andiamo a vedere se si farà avanti questa persona quindi vediamo prendiamo anche qui alcune carte e vediamo allora qua viene un cavaliere di denari abbiamo il re di spade abbiamo la carta delle stelle l'asso di denari il 10 di spade e a fondo mazzo 6 di denari sicuramente questa persona ha intenzione di farsi avanti perché vedete già abbiamo quando abbiamo i cavalieri il cavallo che va bene si mette in viaggio già è una persona che sicuramente si vuole si vuole fare avanti poi abbiamo anche la carta delle stelle che ci parla di coraggio di speranza l'opportunità dell'asso di denaro vedete qua di denari qua c'è stato un addio ma un addio momentaneo perché è come se in qualche modo c'è stato questo dolore però è come se in qualche modo si sentiva dentro che non era totalmente finita la situazione per cui io qua vedo che lui si farà avanti si farà avanti vorrà avere questa opportunità e con il 6 di denari vi porterà qualche dono vedete insomma un regalo o se stesso poi è da vedere adesso andiamo a vedere ancora ma questa persona in realtà cosa vuole da me quindi abbiamo visto perché vi pensa abbiamo visto se si farà avanti adesso vediamo ma cosa vuole da me questa persona realmente quindi andiamo a vedere questa persona che cosa vuole da voi quindi prendiamo ancora 5 di denari la regina di bastoni il papa la regina di coppe la carta della forza ancora 6 di denari a fondo mazzo si ripete il fondo mazzo quindi che cosa vuole da voi beh questa persona da voi adesso vuole praticamente tutto vuole l'amore passionale vuole l'amore sentimentale vuole la vuole avere si vuole assumere la responsabilità di questo amore con la carta della forza si rende conto che deve trovare la chiave la chiave giusta per poter ritrovare tutto questo volere e però con la carta del papa soprattutto vuole essere perdonato vedete la carta del perdono centrale quindi quello che vuole fare è questo andiamo a vedere ancora di approfondire vediamo con gli oracoli di ene se ci danno qualche altra notizia su cosa vuole da me ma qua mi sembra molto molto chiara la cosa proprio chiarissima questa persona vuole sicuramente vediamo soltanto il 5 di denari perché viene fuori come vediamo come lui troverà questa chiave per poter rivenire da voi perché le altre carte allora lui vuole togliere questa negatività che lui ha vi ho detto io non volevo usare questa frase prima quando ho descritto la persona no però guardate guarda caso mi è uscita da questa carta questa persona è come se portasse un po' una negatività sua di fondo e vedete lui vuole eliminare questa negatività per poter poi riconciliarsi con voi vedete anche qua esce la carta della riconciliazione quindi qua questo è quello che vuole fare questa persona quindi questa era la variante però adesso andiamo ancora a vedere la carta che era abbinata a questo mazzo di carte che voi avete scelto senza sapere cosa dicesse questa carta allora giriamo la carta la carta dice nel prossimo futuro quindi tutto quello che è stato detto qui in questa assesa si avvererà nel prossimo futuro quindi ci dà una conferma che questa è la situazione diciamo questa situazione che è venuta fuori da questa stesa succederà nel prossimo futuro allora ragazze questo è stato il mio interattivo a più varianti ovviamente se vi siete riscontrati nella variante se vi è piaciuto l'interattivo mettetemi un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi ringrazio di essere stati qui con me anche quest'oggi per questo interattivo vi do appuntamento agli altri miei interattivi e vi saluto vi mando un bacione dalla vostra Zaira ciao a tutti